Le associazioni animaliste hanno già annunciato l'intenzione di presentare denuncia contro i gnoti al Tribunale dei Minori di Milano competente per il territorio lecchese. Fa discutere il video girato nelle scorse settimane nella zona dove il torrente Bione si mette nel lago, a poca distanza dalla piazzola di atterraggio degli elicotteri del soccorso alpino. Dura una ventina di secondi e vede i protagonisti due ragazzi che prendono a sassate una nutria. Il cappuccio in testa a coprire parzialmente il volto, la grossa pietra in mano, le risate quando la scagliano con forza contro l'animale che rimane tramortito tra il muro e l'acqua, si contorce, prova a scappare. A rilanciare il filmato, realizzato evidentemente da qualche complice dei due adolescenti convinto di incassare like e subissato invece dai commenti di sconcerto, la pagina Welcome to Favelas su Telegram, indignazione e parole di condanna, la reazione comune. Orrora Lecco, questa è violenza gratuita, altro che disagio giovanile. Spero che questi stupidi siano obbligati a svolgere servizi sociali, scrive sui social il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giacomo Zamperini. Così il volontario dell'EMPA, Ente Nazionale di Protezione degli Animali, di Merate. Qualcuno li riconosce? Chiunque abbia informazioni utili per trovare queste due persone, ci contatti. L'appello lanciato su Facebook. Come EMPA, anche volontari dell'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, annunciano una denuncia contro i gnoti al Tribunale dei Minori. È importante risalire agli autori, che poi hanno postato il video in rete, e punire quest'atto di violenza gratuita contro una nutria solo per raccogliere like, senza rendersi conto che anche la vita di un animale ha valore. Grazie. Grazie.